Tunnel, lo speriamo in modo energico tutti. Ringrazio, stiamo in diretta sulla pagina Facebook di Fipe, questo spazio Fipe, per affrontare diverse tematiche all'interno di un nome che abbiamo dato quest'anno a questo spazio che è Ristorazione 4.0, peraltro è lo stesso nome che EFCEM ha dedicato alla sua iniziativa nei confronti del nostro mondo, anche senza volerlo ci siamo ritrovati insieme sulla stessa lunghezza d'onda. Il concept di questo spazio Fipe è dedicato all'innovazione, alla digitalizzazione, perché siamo convinti che questo sia un futuro presente più che futuro, quindi una cosa da cui non si possa prescindere e allora ragioniamo oggi di un altro pezzo, ieri abbiamo parlato dell'innovazione e digitalizzazione nella parte di front office, cioè il cliente che si mette in relazione con l'azienda o meglio l'azienda che si mette in relazione con il cliente, oggi parliamo invece del cosiddetto back office, cioè quell'innovazione necessaria per gestire meglio i processi, per gestire meglio i processi produttivi, il processo produttivo all'interno dell'azienda e per farlo abbiamo chiesto una mano agli amici di EFCEM Italia che è l'associazione di categoria che rappresenta il mondo dei produttori di attrezzature professionali e nel loro mondo ci sono anche naturalmente le attrezzature non professionali nel mondo più ampio di Applia, rappresentano le maggiori aziende del settore e quindi con loro proviamo a fare un ragionamento a capire che tipo di cambiamento c'è stato nelle attrezzature, quando si parla di transizione 4.0, si parla di digitalizzazione delle attrezzature che vuol dire che cosa sta cambiando, perché le aziende dovrebbero entrare in questo mondo con più convinzione, sto parlando del mondo della ristorazione e poi parleremo anche di un'idea che è nata sia a FIPE che a EFCEM di una collaborazione più stretta, peraltro noi abbiamo un protocollo d'intesa che ormai va avanti da almeno un paio d'anni, cosa fare insieme per rafforzare questa collaborazione a beneficio naturalmente non di noi stessi ma delle imprese che rappresentiamo, EFCEM per i produttori e la FIPE per i ristoratori, quindi vediamo che cosa possiamo fare insieme e poi di questo parleremo. Allora vi presento subito le persone che sono con noi, allora partirei dal Marco Imparato che è il direttore generale di Applia, la famiglia, la casa dove dentro c'è anche EFCEM e poi magari ti chiederò Marco di fare anche te un saluto, una tua considerazione proprio in partenza all'apertura. A seguire vado proprio in ordine il nostro Giancarlo De Idda che è consigliere nazionale della FIPE ma ci tengo questo a sottolinearlo che è anche e soprattutto un imprenditore del mondo della ristorazione, lo vedete dai suoi capelli, non è un improvvisato, non è uno che è entrato nel mercato recentemente e quindi sta cercando di barcamenarsi, è una persona di grande esperienza, di conoscenza dei processi, dalle materie prime alle attrezzature però poi ci dirà lui che oggi facendo un giro insieme ha scoperto che forse c'è ancora molto da imparare anche per chi di questo mondo sa molto. Vado a seguire con Carlo Carincola che è un collaboratore di Imparato all'interno di EFCEM Italia ed è quello che oggi rappresenterà EFCEM in questa tavola autonda perché Marco farà un saluto iniziale e chiudo con Roberto Ragazzoni che è vicepresidente di Aligroup, Aligroup per chi non la conosce ma credo che gli addetti ai lavori la conoscono un po' tutti perché ha tanti brand all'interno, tanti marchi, io ne ho scoperto oggi un altro che non sapevo facesse parte della famiglia ma ne ha tanti da Friulino, non voglio far torto a nessuno senza citare però poi ci dirà il dottor Ragazzoni chi sono, chi è Aligroup ma soprattutto che cosa sta succedendo a livello di cambio di innovazione nel sistema delle attrezzature professionali e quindi per quali sono i benefici che portano a questa innovazione per le imprese. Ecco io poi mi permetterò di chiedere una battuta a Paolo Capurro che è lì defilato perché è un imprenditore anche lui importante del mondo della ristorazione nella versione banketing diciamo gli eventi, devono gestire eventi con spesso centinaia a volte anche migliaia di persone e quindi hanno bisogno di preparare le cose in un certo modo, di conservarle, di trasportarle, di rinvenirle e quindi credo che questo tema dell'innovazione delle attrezzature sia abbastanza di casa nel mondo della azienda di Capurro. Quindi partirei da te Marco ecco se puoi fare una tua considerazione magari anche un saluto e parlare un attimo di questa collaborazione con Fipe perché dopo tratteremo, entriamo più nel vivo degli argomenti, non ci dobbiamo auto celebrare ecco, dobbiamo entrare nel cuore dei problemi. Grazie Marco. Non so se funziona, se mi sentite bene, grazie. Grazie Luciano, buongiorno a tutti, non faccio spoiler sulla iniziativa comune che stiamo portando avanti, poi Carlo riuscirà a entrare in dettaglio, però ci tenevo a portarvi saluti dei produttori, dei soci di FCM Italia, come Luciano ho già anticipato, è un produttore di apparecchiature professionali che è un'eccellenza dell'industria italiana. Per chi fa il mio mestiere, quindi diciamo rappresentare il settore, è veramente un piacere perché è un settore praticamente 100% made in Italy ed è rappresentato una vera leadership, non tanto per dire ma concreta a livello europeo e a livello nazionale. È un piacere per me essere qui dai nostri amici di Fipe, ci lega un rapporto di lunga data, condividiamo dei valori importanti e credo che questo periodo di difficoltà che abbiamo insieme affrontato recentemente ci ha probabilmente unito ancora di più. Non voglio fare discorsi troppo retorici ma è in dubbio che nel momento della necessità fare sistema è indispensabile. Credo che nel nostro piccolo siamo riusciti anche a fare questo. Valori che ci uniscono a partire sicuramente dall'innovazione, dall'efficienza. Credo che questo sia un percorso che possiamo portare avanti insieme come beneficio per il nostro sistema paese. Grazie. Grazie Marco. Uncora solo 10 secondi. Parlavamo prima di iniziare questa tavola rotonda di qualche modalità di collaborazione anche per far conoscere meglio quali sono sia le aziende ma anche quali sono i prodotti, i cambiamenti, l'innovazione attraverso magari incontri con imprenditori. Cioè dobbiamo in qualche modo far incrociare la domanda e l'offerta anche da questo punto di vista, non soltanto quando si parla di lavoro, l'impresa con i dipendenti. Perché penso che le imprese ci sia un deficit, un gap nell'informazione, una simmetria. Spesso gli imprenditori, quelli magari piccoli che devono far tutto, non hanno la possibilità di seguire tutte le dinamiche di cambiamento che ci sono anche dal punto riguardo alle attrezzature e magari qualcosa se dovessimo pensare a qualcosa da fare insieme, una potrebbe essere questa. Non so qual è il tuo punto di vista, se condividi. Condivido assolutamente un tema che portiamo avanti come associazioni. Devo dire che come FCEM Italia, questa è proprio una delle criticità maggiore che abbiamo evidenziato, come ci sia una perdita di conoscenza o comunque difficoltà di fare informazioni lungo la filiera. Per cui quell'innovazione che viene portata avanti dalle nostre aziende poi non sempre si riesce a trasmettere lungo la filiera. Poi innovazione che porta dei vantaggi concreti, miglioramento del servizio, diminuzione della bolletta elettrica che in questo momento credo che sia un argomento sicuramente caldo. Quindi insieme credo che da questo punto di vista possiamo veramente portare un beneficio per il sistema. Noi rappresentiamo un settore che fattura più di 5 miliardi di euro, quindi un settore rilevante. Poter dare il nostro contributo per un'informazione completa anche in Italia credo che sia per noi veramente un plus. Bene, grazie Marco. Ci siamo. Io passerei adesso, non per seguire l'ordine, ma la parola al Presidente De Idda, all'oste sardo come lui ama definirsi, perché con orgoglio devo dire, perché chiederei, naturalmente partirei da qui Presidente, cioè quest'innovazione, intanto il tema degli investimenti, siamo in un momento particolare di grandi difficoltà, il settore ha sofferto, sta continuando a soffrire, anche se forse un po' meno di quello che è avvenuto fino al primo gennaio 2021. È necessario investire, è necessario innovare, si può pensare ad un progetto che non è solo ristorazione 4.0, ma che io chiamerei cucina 4.0, pensando agli abbattitori, pensando alla modalità di lavare, il lavaggio fatto in un certo modo, le cucine digitali collegate con la connettività che ti consentono di controllare una serie di cose, e poi qui magari aprirei anche una parentesi sul tema delle competenze, cioè come questo, che rapporto ha questa innovazione con le competenze del personale? Allora, siamo sbarcati in un'epoca nuova, l'abbiamo detto in questi due giorni ormai qua, niente più come prima, il Covid ci ha fatto capire, abbiamo avuto troppo tempo per riflettere, che cosa stava succedendo, abbiamo poi avuto la fortuna di avere una grande estate. Ipotizzare che da qui si riparte, ed è un rimbalzo, nel nostro comparto, e parlo da Oste, oltre che di aver attraversato come imprenditore con vari ruoli l'attività del settore del turismo, come Presidente di Camera di Commercio, di aver giocato un ruolo importante nell'isola dove tutti vorreste venire a trascorrere almeno 60 giorni, fatelo eh, lo dici aiutate, perché è l'isola più bella del mondo, ma non perché ci vivo io, ma perché l'ho paragonato ai caraibi, perché vado d'inverno, andavo almeno una volta, allora vuol dire che adesso abbiamo avuto questa fortuna, non so se questa fortuna l'avremo l'anno prossimo, perché libereranno tutti gli italiani che hanno creato la domanda, e quindi lo sforzo della ritornazione è dire bene, adesso dovrò essere più competitivo, perché andremo a trovare dei competitor fuori dall'Italia, quindi il progetto è quello che la FIPE deve svolgere questo ruolo, di spiegare che non è più soltanto un problema di prodotto, il prodotto lo abbiamo, ce lo riconoscono tutti nel mondo, come si mangia in Italia non si mangia nessun'altra parte, il problema adesso è riuscire a garantire quella qualità, avere il tempo di studiare le pietanze senza perdere l'origine della pietanza, la cucina italiana è una cucina regionale, non è una cucina nazionale, quindi se non hai tutte le competenze per poter sapere da dove migliorare l'efficienza del processo, e quindi finiamo dentro di voi, cioè dobbiamo migliorare l'efficienza del processo, questo processo passa attraverso maggiori conoscenze, risparmi energetici, taglio di costi, riuscire a mettere insieme un processo produttivo dove inseguire le nuove figure professionali che siano in grado di affare numeri senza perdere identità, essere competitivi, ecco questo è mancato, è colpa, lo dice uno dei vecchi della FIPE, va bene? Quindi mi accollo la responsabilità, ma in questa fase il dialogo con voi diventa fondamentale, dal piccolo ristorante di spiaggia che deve capire che non deve continuamente solo fare insalate, ma probabilmente i costi li abbatte nei costi energetici della lavastoviglie o nei costi energetici di una cucina che non è coi fuochi, perché ci sono problemi anche di sicurezza, tutti questi passaggi dobbiamo ricercare questa volta di ricostruirle insieme, perché domani per noi, che domani è vero, cioè nel senso che dobbiamo cominciare adesso, a pensare che tipo di prodotto offriremo al turista che verrà, all'italiano che vorrà andare fuori, che quindi riuscirà andando fuori a comparare quella che è l'evoluzione della cucina francese o la cucina spagnola, con la fortuna di avere voi in casa, cioè quelli che da sempre ci sono stati a fianco, hanno costruito con noi le attrezzature di cucina che servivano e oggi queste attrezzature sono quelle totali. Riuscire a leggere in tempo reale quelli che sono i consumi, riuscire a avere l'efficienza perché una macchina si guasta, avere il tempo a delegarlo a voi e dire chi mi controlla tutto il processo all'interno delle macchine che ho messo dentro e il vostro gruppo ne ha una mirida di tali che si possono combinare. Ecco, questo è lo sforzo che secondo me, come lei ha detto bene, come sistema, il sistema Italia, non voglio usare una parola più grossa, ma noi abbiamo rappresentato la destinazione turistica in Italia, la ristorazione e la gastronomia è il motivo per cui si veniva in Italia. Perdere questa identità, perdere questa opportunità, diventare meno competitivi perché non riusciamo a stare nel prezzo, qualificare le nostre figure professionali che abbiamo avuto difficoltà a trovare. Quindi non è solo un lavapiate, perché è un lavapiate che a questo punto riesce a gestire bene una lavastoviglie, deve avere una serie di competenze non da nulla, un aiutante di cucina che deve abbattere, mettere in frigo, far rinvenire, trovare il tempo per stabilire come arrivare a fare il delivery. Tutto questo l'abbiamo lasciato all'improvvisazione, nella capacità italiana di venire fuori dei problemi. Ecco, questa è la volta a cui FIPE, con voi, deve mettere in piedi un sistema per rendere questo mondo veramente più aggressivo. Ma Presidente, solo per un'altra cosa e poi continuiamo il giro, ma questa innovazione che hai avuto modo di vedere, anche stamattina, ma che avrai visto anche in altre occasioni. È un'innovazione che va nella direzione del miglioramento dei processi di cui parlavi, nel senso che oggi è immaginabile una ristorazione di qualità regionale, basata sulla cucina regionale. Ad esempio, io magari sono un po' banale su questo, però, voglio dirlo, senza avere un abbattitore all'interno della cucina, è possibile ancora lavorare con le attrezzature di 20, di 15, 20 anni fa? Non parlo dal punto di vista della vetustà, delle attrezzature, parlo dal punto di vista della funzione. Se parlo di quello strumento che non può mancare, ma anche soltanto come ciclo produttivo per garantire la salubrità del prodotto, è chiaro che non può esserci oggi una cucina senza un abbattitore e le conseguenze, no? Tutto quello che c'è. Ma perché hai dei tempi morti. L'economicità del sistema di una cucina all'italiana è quella di come facevano le nostre nonne quando avevano una cucina economica. Su quella cucina economica cucinavano diversi tipi, secondo dovevi avere le competenze di sapere allontanare dalla fiamma o no. Qui dobbiamo trovare la possibilità perché nella ristorazione l'abbiamo visto, ma non adesso. Già da prima c'era poca presenza nella ristorazione tradizionale a pranzo. E quindi quelle ore comunque di lavoro e di competenze che avevi devi riuscire a trasformarle in un processo di produzione che consensa abbattitore, sottovuoto, che non vuol dire perdere l'identità. Questo passaggio i francesi l'hanno fatto 15 anni fa e hanno rivendicato di averlo fatto. Ecco, noi potremmo approfittare, dobbiamo o non potremmo, dobbiamo approfittare di questo momento per fare questo salto. Competenze, andrà sempre bene la cucina con quattro padelle, diciamo che non ci sarà, ma che chi mette in presa deve farlo in maniera diversa. Ecco, il Presidente Ridd ha fatto il distinguo tra chi farà il ristoratore ancora utilizzando i fuochi, i quattro padelle, si può fare, e chi deve pensare dentro una logica più imprenditoriale. Passando adesso al Dottor Ragazzoni, quando il Presidente De Hidda diceva dell'abbattitore, a voi, insomma di abbattitore ve ne intendete, nei ristoranti italiani ci sono gli abbattitori in ogni cucina? Secondo l'osservatorio della sua azienda? E poi dopo le chiederò invece dell'innovazione, era così una battuta questa? Sicuramente ci sono dei mercati nei quali l'abbattitore, scusa, scusate, nei quali l'abbattitore, come quello francese, il mercato ha preso piede maggiormente. Avvicino un po' di più. Scusi. L'Italia però non è tra i mercati più arretrati. I nostri amici tedeschi, per esempio, usano ancora meno l'abbattitore rispetto agli italiani. Bella notizia questa. Ogni tanto anche noi italiani possiamo fare buone innovazioni di processo. Ok, invece rispetto al tema del dove stanno andando le macchine che si fanno oggi, qual è la direzione, che tipo di cambiamenti ci sono e perché avete pensato a quei cambiamenti, a introdurre quell'innovazione nelle macchine? Per quale obiettivo, quale esigenza? Sì, devo dire che la ristorazione è conosciuta come un settore piuttosto tradizionale dove le innovazioni avvengono molto lentamente rispetto ad altri settori. In questi ultimi anni però vediamo grosse spinte all'innovazione e questa fiera lo conferma, lei stesso ha detto che ha visto molte novità. i driver secondo noi sono sicuramente due importanti, quello di una migliore efficienza energetica e lo vediamo sul lavaggio, lo vediamo sulla refrigerazione soprattutto e poi quello legato alle opportunità che l'elettronica dà per meglio gestire l'apparecchiatura e di conseguenza la connettività dell'apparecchiatura. Diciamo che lo sforzo che anche noi come produttori dobbiamo fare è fornire a voi come utilizzatori dei veri vantaggi grazie alla connettività. Ad esempio ci può dire che cosa fanno queste macchine? A parte cosa fanno, io cito uno dei nostri brand di prestigio, Carpigiani ha iniziato a fare macchine del gelato connesse già dieci anni fa, non si parlava ancora di IoT, l'avevano chiamata e-maintenance. Quindi oggi se una macchina del gelato che ha equipaggiata con la connettività Torema di Carpigiani si guasta, il tecnico sa già che tipo di guasto ha e quindi quando interviene ha già sul suo camioncino il pezzo di cambio giusto per fare un esempio. Quindi il mondo del servizio post vendita e dell'assistenza è sicuramente il primo obiettivo e il primo miglioramento che la connettività può fornire. Parliamo poi di controllo remoto delle apparecature quindi sapere se le apparecature sono correttamente funzionanti oppure no anche non tanto come servizio tecnico quanto come gestore del punto vendita. Un'altra cosa banale è avere la norma HCCP in automatico sul freddo. Non devo più segnare... La famosa lista, la checklist in cui bisogna segnare la temperatura laddove la richiedono. Esatto. Questa è fornita in automatico, vado con la mia app, vado con il mio computer, la scarico e ho tutto in automatico. Quindi il nostro sforzo, stavo dicendo, è quello di immaginare anche insieme agli utilizzatori le potenzialità innumerevoli che possiamo trovare ad avere le cucine connesse. Ho fatto solo un paio di esempi in questo momento. Il terzo esempio che mi viene in mente sui forni combinati sappiamo bene possiamo scaricare da internet le ricette. L'Inox ha questo ricettario Nabuc dove qualunque chef può caricare una ricetta e qualunque utilizzatore può scaricarla da internet. E qui le chiedo la cosa che avevo chiesto a Deida e però la ribalto su di lei questa innovazione in cui la macchina quando ci sei davanti a un forno ti dice metti il vassoio in questo modo ti fa vedere come metterlo poi ti dice appunto la ricetta poi ti dà una serie di istruzioni. Questa roba come si combina con un processo di valorizzazione delle competenze? È la macchina che incorpora il know-how e quindi lo toglie richiede un personale meno competente perché ci pensa la macchina o in qualche modo c'è uno scambio di valore tra macchina e uomo? Facile dire che ci deve essere uno scambio di valore io faccio sempre il paragone con le fabbriche che producono le nostre apparecchiature e un'estrazione da operations anche con l'automazione in fabbrica non eliminiamo il valore aggiunto che l'uomo può dare però togliamo quelle operazioni a non valore aggiunto che certi operatori devono fare quindi anche in questo caso posso sempre scaricare da internet la ricetta ma in quella particolare situazione con quel particolare menu posso io mettere il mio know-how e personalizzare la mia ricetta però poi sono sicuro che avrò una standardizzazione del prodotto nel tempo perché userò sempre quella ricetta che io ho memorizzato nel mio forno Senta, a Aligroup adesso ci sono nuove innovazioni che verranno nei prossimi anni a cui state già pensando o per adesso questo è il massimo che si può fare Mi viene in mente una grossa innovazione al quale stiamo lavorando non in Italia purtroppo perché è il governo del Regno Unito che ci sta spingendo una nostra azienda ha fatto il primo prototipo di cucina con l'idrogeno che non brucia gas ma brucia idrogeno pensiamo alle macchine di idrogeno non alle cucine quindi anche questo va nella direzione della riduzione della sostenibilità di fatto perché poi dietro queste cose si apre il grande tema della sostenibilità io direi anche della sostenibilità non solo per l'ambiente ma anche per la cucina stessa perché Deid ha fatto un passaggio credo o l'ha fatto in un altro momento in cui parlavamo anche dell'ambiente di lavoro di come migliorare l'ambiente di lavoro di una cucina che noi sappiamo per chi ha avuto modo di vederle che magari con certe temperature in alcuni momenti dell'anno non è dei migliori se non ci sono attrezzature adeguate questo è un altro tema molto interessante e mi ricollevo a quello che stavo dicendo prima sull'analogia tra una cucina e una fabbrica scusatemi non per banalizzare però l'organizzazione che può essere necessaria in cucina per efficientare i processi è un percorso di miglioramento una delle nostre aziende sta lavorando a un modello che chiamano fabbrica cucina laddove riescono a dare aiuto al ristoratore a chi progetta la cucina per ottimizzare il processo interno all'interno della cucina anche grazie alla tecnologia certamente ma prima di tutto come aiuto alla progettazione dei miei flussi del mio personale all'interno della cucina perché questa è la vera sfida di questi tempi sappiamo che esiste un grande problema anche di reperimento del personale a volte di personale qualificato il più delle volte non di quello più generico adesso diciamo il problema esiste un po' dappertutto a tutti i livelli generico più qualificato però questo è un problema si ragionava anche ad esempio con come tagliare alcune diciamo alcuni processi accorciare alcuni processi utilizzando macchine che fanno totalmente il processo ho visto lavaggio di piatti eccetera a nastro oppure a traino e così via che di fatto fanno un po' tutto da sole certo stiamo cercando di ridurre le dimensioni di quelle attrezzature perché normalmente richiedono maggiori spazi che non un ristorante dove lo spazio in cucina è sempre prezioso quello è anche l'attività se vogliamo a monte della lavastoviglie può essere automatizzato chiaro ma io penso che l'innovazione tecnologica l'automazione in genere in questo caso l'automazione che ha attraversato tutti i settori partendo dalla manifattura prima di tutto ma sta arrivando anche altrove deve servire a razionalizzare i processi anche in attività tradizionali dove sembra che sia una contraddizione in termini qualcuno pensa che sia quasi uno snaturamento dell'anima di una realtà se ragioni una logica di impresa devi capire che cosa è utile fare quindi questo è un po' è un'ottimizzazione dei propri costi operativi esatto e va sempre accompagnata da un cambiamento anche chiamiamolo organizzativo da un cambiamento dei modi di lavorare quindi la tecnologia aiuta se sono disposto a cambiare e migliorare per esempio l'abbattitore adesso le posso fare una provocazione magari così buonaria se qualcuno venisse in visita ad host che non fa il ristoratore l'imprenditore passa davanti ad una azienda del battaglio delle vostre o di un competitor e guarda i forni guarda alcune cose vede che sono tutti automatizzati le ricette eccetera può pensare magari dice ma qui apro anch'io un ristorante perché è tutto facile fa tutta la macchina ecco lei pensa adesso sto banalizzando io pensa che questa cosa ovviamente è una storiella non come dire da narrazione ma non è così in effetti perché poi io vedo quando ci sono quelli che fanno le dimostrazioni il personale tendono molto a semplificare della serie passando questo lo può fare chiunque questo lo può fare chiunque allora questa cosa non mi incoraggia se penso da un punto di siccome noi viviamo in un settore che ha un grande turnover imprenditoriale noi sappiamo parlo di dati pre-covid scusate che le aziende a 5 anni 100 aziende nascono oggi a 5 anni ne arrivano vive 40 con un tasso di mortalità del 60% allora vorremmo un po' come dire sfatare l'idea che questo sia un settore facilmente approcciabile e non vorremmo che la tecnologia fosse essere interpretata come un incentivo ad entrare perché tanto non devo saper fare il ristoratore o fare il coso ci sono le macchine ecco questa cosa qui io penso che naturalmente non è nello spirito di un'azienda come la quella che voi rappresentate la sua però a volte mi viene da pensare che qualcuno possa essere preso da questa cosa che la tecnologia ti fa fare più facilmente l'impresa e quindi puoi anche non sapere tanto ci pensa la tecnologia magari ho detto una banalità no penso che la tecnologia sia come ho detto prima un fattore abilitante ma bisogna saperla usare all'interno di un processo che va dall'acquisto delle materie prime al servizio del piatto al cliente quindi la tecnologia mi aiuta a essere più efficiente a consumare meno energia come dicevamo ma non si sostituirà mai al ristoratore all'imprenditore che vuole aprire poi le chiederò magari a un altro giro altre cose abbiamo quell'altro perché dobbiamo fare l'operazione Carlo allora Carlo Carincola FCM Italia un pomeriggio grazie per essere qui a te diciamo una battuta intanto su questa idea di lavorare su degli strumenti che incentivino gli investimenti in ammodernamento delle attrezzature delle cucine magari se ci dice anche qualcosa sulla qualità del parco attrezzature oggi installato e poi io ti chiedo subito di dirci qualcosa anche rispetto se puoi entrare nel merito a transizione 4.0 e poi anche a questa perché è importante poi dare informazioni cioè è stata rifinanziata la Sabatini con 300 milioni di euro quali sono come si possono usare questi strumenti e se dobbiamo appunto lavorare per rafforzarli o per trovare anche altre cose da mettere a disposizione delle imprese e della nostra filiera assolutamente grazie della domanda allora innanzitutto parliamo dell'obiettivo di questo progetto progetto che noi stiamo come dire portando avanti e che speriamo le istituzioni come dire implementino a livello legislativo l'obiettivo di questo progetto è fondamentalmente quello di cui stiamo parlando di cui hanno parlato diciamo gli altri relatori precedentemente ovvero accelerare questo processo di lo dico in maniera banale svecchiamento degli apparecchi che sono in questo momento installati nei ristoranti italiani noi abbiamo condotto due anni fa uno studio con l'istituto XE che è un importante istituto di statistica dove abbiamo analizzato proprio il parco installato nei ristoranti italiani ed è venuto fuori un dato interessante ovvero che la vetustà questo termine così diciamo nobile l'anzianità del parco installato medio quindi ricordiamo parliamo sempre di prodotti che sono nella cucina professionale quindi frigoriferi forni piani cottura lavastoviglie a una media di circa dieci anni ecco la differenza tra un prodotto che appunto viene esce dalla fabbrica oggi e un prodotto di dieci anni fa è una differenza molto importante soprattutto nei termini di cui abbiamo parlato fino adesso quindi sostenibilità ambientale quindi energia e di conseguenza bolletta e quindi investimento in investimento in energia e poi l'altro driver ovviamente è la connettività i prodotti di dieci anni fa non erano connessi tranne qualche prodotto diciamo del gruppo Ali come giustamente prima diceva Roberto Carpigiani per cui adesso si può usufruire di prodotti che sono all'incirca il 30% più appunto efficienti dal punto di vista energico e connessi quindi ci permettono di poter come dire gestire il processo di produzione del pasto in una maniera più efficiente quindi come possiamo accelerare questo processo di svecchiamento possiamo accelerarlo diciamo attraverso degli incentivi questo è stato fatto nell'industria industria 4.0 è un progetto che sappiamo tutti funziona ha funzionato e riteniamo che un progetto del genere debba essere applicato anche al nostro mondo della ristorazione perché l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di vincere insieme quindi produttori e ristoratori è quello di vincere questa sfida questa sfida della pandemia noi oggi abbiamo un transizione 4.0 che è in vigore attualmente e ci dà un incentivo al 50% fino al 31-12 se ricordo bene e poi diventa dall'anno prossimo 40% a meno che non ho fatto la spesa anticipando il 20% quest'anno per arrivare fino a giugno poi dall'altro c'è la Sabatini che consente di avere un supporto sugli interessi che si paga per l'accesso al credito ora quindi noi dovremmo da un lato intanto far conoscere queste misure che non sono sempre conosciute a chi opera nel mondo della ristorazione perché voi so che avete come aziende una grande rete di agenti di dealer eccetera però poi alla fine quando l'ultimo miglio è sempre un problema quindi bisogna arrivare anche a costruire una sensibilità su questo allora noi che cosa come andiamo intanto c'è questo lavoro da fare e poi dobbiamo aggiungere qualche altra cosa perché io credo che oggi le non lo so poi lo chiederò al dottor Ragazzoni quante sono le attrezzature che possono godere di quei benefici fatto 100 il parco delle attrezzature quelle connesse magari sono una quota non credo maggioritaria del parco oggi o più o meno potrebbe essere già così quindi si sta andando in quella direzione allora poi Carlo magari torniamo poi su questa cosa volevo far fare una battuta a Paolo Capurro della Capurro ricevimenti di Genova grazie che ovviamente dal tuo osservatorio da imprenditore in questo caso che opera in un mercato piuttosto complicato per la gestione del processo produttivo ritieni che è importante andare in questa direzione cioè le aziende come Aligroup come altre rappresentate da FCEM altri grandi nomi stanno andando nella direzione giusta che incontra le esigenze delle imprese o c'è una sorta di autoreferenzialità a volte nella diciamo nella in questa rincorsa alla tecnologia allora noi uno dei pochissimi motivi per essere rimasti soddisfatti del lockdown è stato quello forse l'unico di avere maggior tempo di ripensare la propria azienda e devo dire che io sono venuto a conoscenza del progetto di 4.0 dell'innovazione sulle apparecchiature da un fornitore che è venuto a parlarcene me ne sono innamorato perché infatti oggi sono qua proprio per questo perché ho trovato che sia estremamente interessante prima del lockdown avevamo già provveduto a trasformare tutto quello che era gas in induzione oppure in elettrico tipo i forni eccetera eccetera ma adesso io trovo che ci sia modo attraverso credo spero mi auguro ma mi sembra che dai discorsi che stiamo facendo sia esattamente così che ci sia modo di poter contribuire attraverso queste apparecchiature a una maggiore sicurezza alimentare a una gestione in remoto di tutto quello che è il discorso dei consumi che sono diventati fondamentali importantissimi perché non lo so io penso alla mia azienda noi abbiamo 200 kilowatt impegnati caspita sono tanta roba si dice una volta anche quando uno se ne accorge quando è fermo perché allora si accorge di quali sono i costi di questi kilowatt che sono lì a disposizione allora bisogna usarli al meglio adesso a me l'idea che una cella frigorifera possa essere controllata negli sbalzi di temperatura da remoto il giorno dopo che si possa vedere se nel weekend dei morti in cui sei chiuso la temperatura per caso è crollata e questo è importante per la sicurezza alimentare che i forni possano essere tecnologicamente avanzati come dicevate prima e che diano la possibilità di poter riprodurre determinate ricette che magari non si scarichano da internet magari sono le ricette dell'azienda che diventano costanti e che ci si assicura che anche il nuovo cuoco che viene emesso possa riprodurre esattamente come desideriamo che vengano fatte mi sembra un'opportunità eccezionale il risparmio visto che abbiamo scelto come azienda di passare all'elettrico nel momento in cui l'elettrico è diventato così costoso da buon genovese mi sembra una buona cosa che poi sempre da buon genovese ci sia anche un incentivo del 50% io dico la verità stiamo per concludere un ordine proprio di forni abbattitore e cella frigorifera mantenendo lo scafo della cella i muri le pareti che ci sono ma sostituendo tutta la parte tecnologica chiaro che poi si crea il problema importantissimo del personale perché in questo momento c'è questo problemino non da poco però non credo che questo spersonalizzi la capacità del cuoco anzi deve essere maggiormente innamorato del proprio lavoro perché deve essere la conoscenza dell'attrezzatura come della materia prima quindi diventa estremamente importante secondo me dovrebbe questo contribuire come diceva Deida a assolutamente far sì che le aziende possano crescere perché questo è un modo di crescere e il personale che ne fa parte altrettanto grazie Paolo grazie credo che testimonianza illuminante adesso vado qui in fondo perché dall'ultimo posto cambiamo proprio registro c'è la dottoressa Carla Parolari che è la dirigente scolastica dell'istituto alberghiero e io dico della ristorazione anche se non si chiama così dell'enogastronomia eccetera del Gioberti di Roma e qui la ringrazio per essere venuta a farci visita e vorrei che ci portasse la testimonianza di chi vive il mondo della formazione cioè la tecnologia entra nella formazione dei ragazzi può entrare è importante che entri cioè devono sapere che cosa sta avvenendo nel mondo delle attrezzature perché un giorno dovranno utilizzarle oppure qual è la sua esperienza e poi ovviamente da protagonista perché lei è il dirigente scolastico ed è quella che decide dove vanno messi i soldi della scuola sicuramente poi in questo momento diciamo che abbiamo anche avuto dei finanziamenti per cui bisognava essere pronti a raccogliere la sfida dell'enogastronomia siamo qui per questo infatti credo che sia una grande opportunità per poter essere inseriti come scuole perché sono anche rappresentante dell'arenaia per il Lazio ma sono nel direttivo quindi come scuole considerateci la vostra filiera perché noi prepariamo i vostri futuri operatori quindi faccio un esempio abbiamo comprato non so quanti forni posso fare il nome uno che l'ho vista qui perché si sono inventati un concorso al quale noi abbiamo partecipato uno lo abbiamo vinto e quindi lo abbiamo preso l'altro ce l'offrivano al 50% e quindi abbiamo cambiato il vecchio ci sono piaciuti prendiamone un altro per il bibliocaffè digitale che ci siamo inventati ultimamente e poi da cosa nasce cosa abbiamo cambiato completamente una nuova cucina perché l'abbiamo ampliata perché le iscrizioni sono tante abbiamo comprato questa macchina del gelato facendo una rete in tre scuole quindi tutte e tre le scuole hanno comprato questa famosa macchina del gelato di cui le raccontavo che è di ultima generazione che quindi ha mantecazione pastorizzazione tutto il percorso che per i ragazzi è importante perché dietro a tutto questo poi c'è la costruzione di un percorso didattico che è di fatto di di regionalità di tecnologia di alimentazione insomma il mondo della scuola cerca di stare dietro a tutto ciò che accade senza poi dimenticare il discorso dell'inclusione che faccio sempre prima quando le diceva beh una macchina che sa fare tutto può fare a meno del cuoco può fare a meno dello chef no ma può aiutare anche quello chef che ha un certo tipo di abilità diverse che non è una cosa così da poco conto così scontata quindi mi sembra una grande opportunità per l'incontrato giusto giusto e quindi contenta spero che appunto quindi questo è un invito anche alle aziende a tenere in considerazione in qualche modo il sistema la rete delle scuole no perché per poter poterle aiutare adesso Marco tu vuoi aggiungere ancora vuol dire qualcosa alla luce di queste riflessioni che sono ringrazio la dottoressa per lo spunto l'operatore è diciamo un elemento fondamentale della filiera quindi lo cogliamo in pieno e ripeto il nostro impegno come produttori lo diceva anche Roberto prima lavorare per offrire un beneficio quindi chi meglio di chi poi mette le mani sul prodotto può dirci se siamo sulla strada giusta volevo fare solo un inciso Luciano sul tema degli incentivi è uno strumento che abbiamo visto funzionato benissimo in altri settori tu giustamente citavi altri strumenti che in questo momento sono sono attivi due cose uno questo è un settore che ha sempre camminato con le proprie gambe non abbiamo mai scusate lo dico un po' volgarmente però mi piacerebbe essere chiaro non abbiamo mai chiesto aiuti per questo settore perché è un settore solido con un'imprenditoria sana che ha saputo fare innovazione e lavorare in un mercato che non sempre è stato facile portando dei grandi risultati questo è al di là della difficoltà degli ultimi due anni questo è un processo che deve portare a una vera innovazione di tutto il sistema e anche un andare insieme in una strada di semplificazione perché giustamente tu citavi transizione 4.0 che però non è stata ideata per questo settore quindi anche per i ristoratori magari per chi è più strutturato e anche come dire magari un pochino più facilitato nell'addentrarsi tra i meandri delle varie delle varie richieste quello che noi chiediamo è uno strumento che sia calibrato sulla ristorazione che sia di semplice attuazione quindi non è una rivoluzione copernicana siamo perfettamente d'accordo non è una rivoluzione è una richiesta di attuare quello che già in alcuni casi si può fare infatti Marco io sono andato per mia conoscenza a rivedere tutte le norme i provvedimenti su transizione 4.0 ti confesso che se fossi un anche così un imprenditore di medio alto livello leggendo quelle norme non capirei che riguarda anche me farei fatica a capirlo perché si parla di tutt'altro è veramente difficile non è che ci deve essere scritto la cucina 4.0 ma si parla di tutt'altro quindi tu fai fatica a capire che là dentro ci può essere anche un forno di quarta generazione cioè diciamo connesso e così via quindi la tua diciamo suggestione che è quella che stiamo percorrendo e che vorremmo percorrere insieme di fare uno strumento a misura del mondo della ristorazione che non dimentichiamolo valeva prima del covid 46 miliardi di valore aggiunto 46 miliardi non è così poco e poi ha tutta quella componente di valori materiali per il paese che è enorme e credo che sia giusto bene adesso intanto ti ringrazio dottore Ragazzoni in conclusione diciamo e poi chiudiamo con il giro è possibile secondo lei ci crede alla possibilità che si possa realizzare uno strumento a misura della ristorazione cioè unendo le forze mettendocela tutta perché no dico dobbiamo crederci come diceva lei è un settore che per il sistema paese è importante è stato in qualche modo adattato il provvedimento transizione 4.0 da chi ha potuto capirlo ma davvero adattato perché non dobbiamo fare uno strumento ad hoc che possa aiutare una filiera così importante per il nostro paese ok quindi possiamo contare sicuramente su Aligroup oltre che su FCM Italia questo questo è ovvio intanto allora la ringrazio Carlo tu vuoi dire quali sono magari i prossimi passi usa quello i prossimi passi su cui possiamo concentrarci per portare avanti questa iniziativa ma sicuramente ecco un primissimo passo può essere sederci a un tavolo come FCM Italia e FIPE riprendere il protocollo diciamo e completarlo con quelle che sono magari delle peculiarità delle informazioni che FIPE ci può come dire può aggiungere da questo punto di vista e poi dobbiamo convincere per convincere dobbiamo cercare di essere anche poco autoreferenziali ovvero prima dicevo questo progetto è per vincere per noi per ristoratori e produttori vincere questa sfida del covid diciamo della pandemia di questa sfida dobbiamo sottolineare il fatto come diceva Roberto che questo è un progetto soprattutto per il sistema paese nel momento in cui vengono installate delle macchine che hanno un'efficienza energetica sicuramente inferiore tanto inferiore rispetto a quelle che sono installate in questo momento beh il sistema paese non può solo che guadagnarne perché parliamo del settore della ristorazione che nel settore terziario è il più energevolo di tutti quindi sicuramente questa può essere la chiave di convincimento ecco allora però qui lancio io una cosa e poi chiedo a Deidda di concludere perché siamo proprio di fatto in perfetto orario abbiamo l'impegno l'abbiamo mantenuto lo so che lei sta scalfitando perché sta qui non per fare talk show o tavole rotonde ma per gestire il business però io penso che noi dovremmo impostare la nostra azione su due piani questo l'abbiamo già detto uno è il piano dell'azione verso gli stakeholder che sono quelli in particolare che rappresentano il mondo della politica le istituzioni perché capiscano che è importante fare alcune cose però poi dobbiamo costruire dei momenti in cui parliamo alle imprese una sorta di road show che va a parlare di innovazione di cambiamento e va a presentare queste cose se ce la mettiamo ci siamo noi ci siete voi ci sono le aziende le nostre e le vostre che ci credono dobbiamo fare un grande progetto credo che non sia soltanto un progetto che va a finire la stanza della Camera dei Deputati del Senato con un emendamento perché va benissimo questo lo dobbiamo fare però dobbiamo anche fare un progetto che sia visibile concretamente alle imprese e quindi dobbiamo su questo mettercela tutta coinvolgendo tutti gli attori perché questo è importante se poi mi insegnavano alcuni grandi dirigenti della FIPE se il cavallo non beve tu hai voglia a portarlo poi se non fai le cose i provvedimenti e poi non li usano perché non li conoscono non li capiscono diventa un problema Presidente sei d'accordo su questo? microfono per il Presidente Edda e chiudiamo solo per chiudere grazie del momento gli amici già abbiamo fatto passi ne abbiamo già detto che stiamo facendo altri chiudo solo una cosa se recuperate ciò che abbiamo fatto ieri perché appunto ha detto non dobbiamo essere autoreferenziare tutti perché noi abbiamo già capito che la ristorazione di domani avrà un 25% di domicilio di delivery quindi la tecnologia diventa indispensabile non è solo per il processo produttivo risparmio energetico è produrre quando serve per i numeri che servono facendo economia di sistema e solo con voi lo possiamo fare d'altro canto quando abbiamo detto sarà sempre più difficile trovare figure professionali che vengono da noi ma non è solo cuochi pensate soltanto a asciugare le posate e quindi il processo del mio amico che fa dimensioni come cosa vuol dire mettere lì 5 dipendenti a lucidare le posate o a lucidare i bicchieri perché è inutile che fai una grande cucina e poi il bicchiere non è perfettamente cristallino quindi tutto questo è mancato perché tutto ha funzionato lo stellone chiamiamolo come lo vogliamo ma adesso far capire come sistema che abbiamo bisogno di questo tipo leggerlo può leggerlo anche uno come me che non era riuscito a capire che era un'occasione l'amico Capur l'ha capito ma è dovuto venire qua oggi oppure ce l'hanno spiegato allora lo sforzo la federazione in tutto questo chiudo col dire che ecco ieri abbiamo parlato che quindi dove è finita la ristorazione dopo il covid col delivery quanto vale la ristorazione da asporto nella ristorazione inglese cioè nel senso che il ristoratore sarà anche il posto dove si passa a prendere la pietanza che poi a casa e voi sapete quanti sono i single nella mia città il 52% i single e i singoli di ritorno quelli la cucina non apriranno mai o finiscono a prendere sul gelato oppure vanno e passano dal ristoratore e quindi a un livello anche di gestione prezzo analisi dei costi lettura dei tempi tutte quelle cose diventano essenziali per la sopravvivenza del modello della ristorazione che parte dal territorio ma penso che questa conclusione sia come dire di grande auspicio per una ottima collaborazione per portare dei risultati alle aziende sia vostre che nostre io ringrazio tutti soprattutto chi ha avuto la possibilità di seguire qui sul posto questa tavola rotonda naturalmente saluto anche quelli che ci seguivano attraverso la diretta e ringrazio tutti voi grazie ancora e diamoci appuntamento non al prossimo host ma magari molto più a breve per vedere se stiamo facendo passi avanti grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti